ciao a tutti e benvenuti il mio canale dedicato al modellismo dinamico io sono isam e se seguite il canale sapete già che sono veramente appassionato e faccio le cose con passione la maggior parte dei video che faccio mi diverte un sacco a farli ma questo video è speciale perché sono due tre giorni che fremo proprio non riesco non riesco a smettere di pensare che adesso finirà la pioggia adesso finirà la pioggia per uscire a volare in fpv con questo agliante infatti cinque minuti fa ha smesso di piovere sono uscito al volo qua è tutto fango praticamente e nonostante il freddo gelido ecco sono uscito a provare questo aereo in fpv tra l'altro voglio consigliarvi vivamente questa giacca della dello xiaomi che è auto riscaldata con una batteria un power bank che potete mettere nella sua tasca ed è veramente fantastica questa giacca infatti adesso addirittura caldo ma non voglio spegnerla perché poi dopo magari ho freddo durante il volo insomma ve la consiglio vivamente vi lascio il link assieme a un coupon sconto nella descrizione del video e adesso andiamo a far volare questo aereo in fpv vedere che sensazione mi dà volare in hd vedo negli occhiali in hd 60 frame al secondo e come registra la telecamera in full hd su un aereo del genere purtroppo il sistema della dgi non riesce a rilevare il voltaggio della batteria quando è collegata direttamente al sistema ma solamente se mettiamo un flight controller quindi ho messo questo buzzer sperando di poterlo vedere direttamente con la telecamera dal volo vediamo con la luce come e come sarà comunque meglio di niente almeno anche suona sarò lontano probabilmente non sentirò questo suono ma andrò diciamo a naso essendo anche un agliante potrei anche cavarmela bene però prossimamente troverò sicuramente un sistema migliore di questo ecco in tanti mi dicono di lanciare controvento sì è giusto lanciare controvento ma purtroppo qua non ho la possibilità di filmare lanciare controvento insieme quindi lancerò con il vento appena si calma un pochino vediamo 123 motore al massimo ok cacchio cacchio no 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 ok 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 si è fermata l'immagine c***o ed è una cosa grave ok siamo in low power mode quindi non riesco ad allontanare sono a 25 mili watt e l'immagine si è si è fermata quando passa da 25 mili watt a tipo potenza massima o da potenza massima 25 mili watt per qualche secondo si ferma completamente vedi un immagine ferma l'ultima immagine che hai visto e questa è una bruttissima cosa quindi sistema dj assolutamente no per aerei si è fermata l'immagine per qualche secondo perché si è raffreddato il sistema è tornato a sparare di più quindi vi vi sconsiglio vivamente di utilizzare il sistema della dji diciamo con con un aereo o dove è ricoperto quindi non è areggiato bene perché se passa alla potenza minima e siete un po' più lontani si ferma il sistema completamente è una cosa bruttissima questa qui e sconsiglio vivamente il sistema dji per aerei non mi sto divertendo per niente perché mi sono cagato addosso sinceramente non c'è un modo neanche di vedere la temperatura del sistema per almeno per capire in che stato siamo viaggiando lenti si scalda il sistema e se si scalda passa la modalità bassa potenza si ferma l'immagine e se siete lontani non vedete più un tubo e crashate perciò sistema dj va bene per droni per aerei per niente ve lo sconsiglio vivamente non è sicuro e devo dire che non mi fido tantissimo del sistema della dji con questo aereo nonostante che si veda veramente veramente bene si vede davvero bene pilotare questo aereo in fpv è fantastico solo che sicuramente preferirei un sistema analogico non digitale motore spento l'immagine veramente bella davvero bellissima però non posso allontanarmi tanto perché non mi sento sicuro immagine si ferma si è fermata cacchio ok siamo in low power si no per niente per niente non va bene per niente ok atterriamo e togliamo questo sistema della dji da questo agliante assolutamente se si ferma adesso mentre sto cercando di atterrare sarebbe un disastro ok purtroppo i momenti critici non sono riuscito a registrarli perché accadono proprio quando diciamo il sistema si ferma si blocca completamente l'immagine rimane un fermo immagine non vedo niente non riesco a fare a fare niente comando per fortuna il l'aereo perché c'è un altro sistema di trasmissione ricezione per quanto riguarda i comandi però vi sconsiglio assolutamente di utilizzare il sistema della dji su un aereo specialmente un aereo lento per esempio come questo che è in agliante e questo perché non riesce a raffreddare il sistema in tempo e questo sul riscaldamento nonostante che ci sono tanti fori qua nell'aereo per raffreddarlo non solo adesso la temperatura veramente bassa perché inverno quando state volando per esempio a 700 millivatt e siete lontani si ferma l'immagine completamente non vedete più niente nel momento dal momento che passa dalla questo dura circa tre secondi addirittura quindi con un quadricottero sarebbe un disastro con un aereo almeno se avete i comandi anche non entra in fail safe e riuscite magari ad avvicinarvi recuperare o cercare anche alla alla cieca di sistemare questa cosa dopo tre secondi ritorna l'immagine però ritorna a scatti perché siete lontani proprio e quindi 25 millivatt non bastano per vedere e se siete fortunati come sono lo sono stato io che non mi sono allontanato tantissimo perché non mi fidavo subito di questo sistema perciò sono riuscito a recuperare d'altra parte diciamo che le antenne messe così sembra che non siano non siano corrette sembra che non debba esserci un ostacolo tra di loro per uscire diciamo a funzionare o non lo so comunque se volete utilizzare il sistema della dji per un aereo non utilizzatelo assolutamente ve lo sconsiglio vivamente utilizzatelo per un drone che sicuro ma per un aereo assolutamente no sia perché non riesce a raffreddare in tempo diciamo il sistema specialmente sia all'interno di un aereo ma anche perché un aereo specialmente come questo che non ha abbastanza velocità non riesce a far passare tanta aria da così da raffreddare il sistema insomma è un disastro quindi adesso rimuoverò completamente il sistema della dji da questo aereo metterò un sistema analogico che è molto più sicuro su un aereo e nel video successivo come da vostra richiesta metteremo un flight controller molto semplice da impostare per un aereo con ritorno automatico a casa e un gps vi lascio già il link nella descrizione del video se lo volete già ordinare anche perché ci metterà sicuramente un po ad arrivare specialmente se volete risparmiare e farvelo mandare con una spedizione lenta per pagare di meno visto che avete scelto il sistema meno costoso almeno complicato per questa costruzione e adesso vado perché è tornata alla pioggia mi raccomando iscrivetevi